Un grande risultato di imprese private, creiamo ulteriori connessioni ferroviarie, efficientando nuovamente la nostra catena logistica, dando ulteriori operatività ai nostri mercati di riferimento, sia in entrata che in uscita, collegando di fatto il nord dell'Europa con il medio e vicino oriente. Questo è un grande risultato, un risultato che peraltro va anche nella direzione della sostenibilità, ricordiamolo, ogni volta che si sposta della merce su treno si impatta molto meno che ad avere camion circolanti. Anche oggi inauguriamo un nuovo collegamento che collegherà il porto di Venezia con il centro Europa e poi con la Cina e con i traffici mondiali. È un passaggio importante perché conferma la centralità del porto di Venezia nello scenario globale e rafforza la competitività del nostro territorio rispetto a altre aree. Quindi bene, è un buon inizio, continuiamo a lavorare su questi temi di competitività. Questo è un termine che funziona, che sta funzionando e che sta crescendo. Per quanto riguarda le merci è stato un anno record su tutta la linea, è inutile ricordare che abbiamo chiuso il 2018 con il maggior numero di contenitori mai fatti nella storia del porto di Venezia, oltre 632 mila, tutti in funzione gateway, quindi tutti in funzione della manifattura e dell'industria del nostro territorio. Sul resto siamo in attesa di qualche risposta. Ricordiamolo, Venezia è un grande porto crociere ma è principalmente un grande porto commerciale e industriale. Questa di oggi è una dimostrazione della sua funzione.